Il Comune di Prato insieme alla Regione continua a pensare che questa sia una straordinaria opportunità per le nostre imprese, per la nostra comunità, per provare a sperimentare per primi. Quelle sono le opportunità che insieme alle percorsi che Industria 4.0 ha tracciato, il 5G, può farci ottenere, può permetterci di farci fare un passo in avanti dal punto di vista della risposta economica, che può assegnare davvero una rivoluzione in un settore maturo come il tessile, che ha forse più di altri bisogno di nuove tecnologie, di nuove opportunità create dalle nuove tecnologie, di implementare i propri percorsi e le proprie capacità di risposta attraverso nuove tecnologie. Ecco perché noi continuiamo a insistere, crediamo che grazie al lavoro di molti si sia raggiunto uno straordinario risultato, continuiamo a pensare che quelle scelte che il Governo ha compiute sono di scarsa lungimiranza, sono sbagliate, ma nonostante questo continuiamo come territorio sia di Prato che insieme alla Regione Toscana a insistere su un percorso di benefici per la nostra città, per le nostre imprese.